hello i'm johnny cash lo so non funziona nonostante questa meravigliosa camicia in stile johnny cash nonostante questo splendido rosso la maggior parte sia in nero come the man in black come amava definirsi johnny cash e lo so che non funziona perché non sono credibile perché nessuno è credibile perché johnny cash è stato unico ed è una figura per quanto riguarda l'america quasi biblica però io sono convinto di una cosa che faccia bene che sia un'ottima cosa fingersi johnny cash più che fingersi credere di essere johnny cash entrare in una stanza e dire hello i'm johnny cash è una forma di autostima è una vitamina per l'anima perché johnny cash sicuramente prima ancora che un grandissimo musicista è stato uno di quei personaggi per cui si usa la definizione larger than life più grande della vita inimitabile è uno che è passato attraverso il peccato attraverso ha toccato punti bassi della sua esistenza ne è risalito attraverso la fede attraverso la musica e attraverso la costruzione di un personaggio che entra tra gli apostoli quasi appunto dell'america che è una nazione estremamente giovane e non ha la sua la sua liturgia di santi e di storia johnny cash è un fondatore un padre fondatore a suo modo degli stati uniti appunto the man in black dicevamo perché lo è perché lui è sempre stato dalla parte dei perdenti e vestirsi di nero che a un certo punto è stato il colore dominante di tutto di tutta la sua vita anche per i dark places quelli neri che ha attraversato nei momenti più bassi dei suoi giorni ha scelto di vestirsi nero perché nero è il colore dei perdenti degli ultimi di quelli dimenticati e lui è sempre stato dalla loro parte anche se ha avuto fama successo soldi e fin in vita fino agli ultimi giorni gli è stato riconosciuto uno status enorme di artista e di fratello appunto di quella quella grandissima nazione un americano vero gli americani ti perdonano i peccati se tu sei sincero e li ammetti lui l'ha fatto l'ha fatto pubblicamente con la sua voce e con il suo corpo e con la sua vita ecco però perché dicevamo dalla parte dei perdenti in realtà lui johnny cash nasce in una famiglia povera del sud l'arkansas quello che noi italiani diciamo abitualmente l'arkansas una famiglia numerosa di contadini lui vive la vita rurale quella degli stati uniti profondi di quelle che spesso sono estremamente lontani dalle coste e dalle grandi città e cresce una questa grande famiglia in cui ci sono fratelli che che hanno un ruolo un ruolo fondamentale uno di quelli che citeremo subito è tommy in realtà non uno dei più fondamentali nella sua vita ma che rilascio questa dichiarazione che è molto importante per capire quello che dicevamo prima perché johnny cash sta dalla parte dei perdenti tommy cash dice questo lui cioè suo fratello johnny si è sempre identificato con il perdente si identificava con anche con i prigionieri perché molti di loro avevano scontato la pena e in alcuni casi erano stati riabilitati ma erano rimasti lì in prigione per il resto della loro vita lui provava una grande empatia per quelle persone quindi i perdenti quelli con cui lui si identifica e verso i quali veste nero per rispetto e soprattutto i carcerati ecco questo è importante perché la canzone di cui parleremo oggi è sun kentine una canzone che deve il suo nome a un penitenziario degli stati uniti la storia di johnny cash è molto legata ai penitenziari e alla gente che ci stava dentro però ci torneremo dopo dicevamo i fratelli un altro fratello fondamentale per la formazione di johnny cash è il suo fratello jack jack era un po la guida spirituale spirituale se vogliamo di johnny lui si domandava sempre che cosa avrebbe fatto jack al suo posto la vita di johnny cash è intrisa di paragoni con la bibbia no e chi studia la bibbia dice sempre che quando uno è in difficoltà e non sa come comportarsi dovrebbe dire che cosa avrebbe fatto gesù ecco johnny cash diceva cosa avrebbe fatto jack perché jack in realtà abbandona ben presto alla famiglia cash un giorno in uno di quegli incidenti tipici dell'america rurale si taglia con una sega e poco dopo muore muore lasciando tutti nello sgomento soprattutto johnny e johnny quel giorno il giorno del funerario il suo fratello si sveglia presto non avverte nessuno e va nel cimitero prende una badile e comincia a scavare lui la tomba per il fratello e questo è un momento che rimarrà come come evidente fisso nella sua vita scava la tomba e quando fanno il funerale lui sarà l'unico con il vestito infangato completamente sporco sarà esausto sudato e avrà anche un piede gonfio perché in questo in questo impeto per cui voleva essere lui a scavare la barra per il suo fratello preferito si infila un chiodo arrugginito nel piede che sarà tutto gonfio e questa immagine molto dark americana da american gothic gli rimarrà per sempre in testa e lui da quel momento comincia a scrivere johnny cash comincia a scrivere racconti storie e capisce che ha bisogno di una sponda artistica forse da quel momento lì comincia a parlare di angeli che sarà una costante nella sua vita come una costante di moltissimi artisti che hanno delle visioni poi la sua vita prende una piega completamente diversa intanto va a svolgere il suo servizio militare in una base in germania e lì la sua vita cambia perché è proprio lì che compra una chitarra comincia a interessarsi alla musica e comincia appunto a scrivere canzoni tra cui una che diventerà un grande classico della vita di johnny cash della sua che sull'intero catalogo musicale e delle prigioni che è falson prison polson prison è un'altra prigione dove lui andrà poi a tenere un concerto prima ancora di quello fondamentale di senchenti di cui parleremo dopo ecco lui lì scrive una delle frasi che diventano iconiche non solo della della musica di johnny cash ma della musica americana dice a un certo punto dice ho appena ucciso un uomo arino giusto per vederlo morire che è una cosa terribile soprattutto come una canzone che poi diventerà estremamente famosa just to watch him die e allora gli chiedono ma perché hai scritto una frase simile e lui dirà che semplicemente si era domandato qual era il motivo più futile e più stupido per uccidere un altro essere umano quindi svele immediatamente in questa linea rock and roll rockabilly blues scheletrica scarna minimale ed estremamente potente che sarà la cifra stilistica che accompagnerà tutte le sue composizioni già lì introduce un elemento appunto nero come il suo dark un uomo lasciato morire giusto per quello uno critico musicali critici musicali ahimè fanno sempre domande come dire un minimo pignole una volta oso dirgli ma perché se l'hanno si è commesso l'omicidio in in nevada poi è finito in prigione in california e lui lo guardò con solto tono e disse amico questa è una licenza poetica anche il critico non ebbe nulla da dire lui è tornato poi negli stati uniti dopo il servizio militare incrocerà il come di luoghi sacri della storia della musica americana tra cui i sun studios di san philippo laddove il rock and roll è stato plasmato e creato e un giorno si troverà all'interno di quei mitici studi esattamente nello stesso movimento in cui ci saranno carl perkins niente meno che elvis prisley e jerry lee lewis the killer quello che suonava il pianoforte con con la furia di un diavolo registeranno qualcosa insieme un quartetto che verrà poi definito il million dollar quartet per la quantità di soldi e soprattutto di dischi venduti ecco la sua la sua vita da lì comincia lui comincia a diventare un musicista affermato incide dischi e diventa se vogliamo la colonna sonora di quella america che come dicevamo prima da rurale si affaccia al mondo cioè i contadini la musica delle piantagioni del blues del sud degli stati uniti che diventa la musica che che già in tutte le radio però la sua vita a quel punto non è così semplice come tantissimi musicisti dell'epoca è costretto a suonare tantissimo e per rimanere svegli rimanere presenti ma anche per divertirsi e sperimentare quel lato scuro della vita johnny cash comincia a essere a diventare dipendente dalle droghe anfetamine soprattutto che lo tengono sveglio lo fanno suonare ma lo portano anche dove non dovrebbe finire in quei dark places che lui ha spesso frequentato e allora da qui la storia dei suoi dei suoi eccessi di ciò che combina è assolutamente enorme spesso quasi divertente diventa letteratura diventa quasi cinema lui si si schianta con la sua macchina contro pali della luce quando è fatto distrugge camere d'albergo e soprattutto c'è un episodio che incrina un po la figura se vogliamo già mitica e leggendaria di johnny cash ed è quando lui passa il confine da el paso in texas e va a juarez in messico e ci va per comprare della droga per comprare delle anfetamine che li costano decisamente meno e in un gesto che è quasi iconico anche questo cosa fa le compra e le nasconde all'interno della casta della propria chitarra quando passa il confine viene fermato e gli trovano una quantità enorme di pillole appunto e anfetamine e allora qualcuno perché già johnny cash era un nome e già la stampa era la stampa scandalistica gli fa una fotografia e lui viene portato via in manette e questo incrina l'immagine di johnny cash soprattutto rispetto all'immagine che era diventato un santino dell'america se vogliamo più conservatrice come johnny cash un peccatore lo è lo è come e poi ne combina altre una volta per esempio dal suo camper prende fuoco lui dice per disattenzione ma probabilmente perché in quel momento era sotto l'effetto di droga camper prende fuoco e brucia una quantità enorme direi tipo 280 ettari di un parco quindi insomma non esattamente un gesto da poco sia per i danni che ha provocato ma per il fatto che avrebbe potuto che avrebbe potuto ucciderlo poi c'è l'episodio di starkville che è forse il più divertente che darà seguito anche una canzone si chiama starkville city jail sono le due di mattina johnny cash è per l'appunto a starkville e probabilmente non proprio presidente a se stesso sta girando per la cittadina e a un certo punto entra in un giardino privato raccoglie dei fiori qualcuno lo nota viene denunciato la polizia lo viene a prendere lui ovviamente da di matto dicendo che stava solo raccogliendo dei fiori ma la proprietà privata negli stati uniti come sapete viene difesa soprattutto a pistolettate e quindi viene arrestato per questo il che se vogliamo è pieno johnny cash perché appunto viene arrestato ma per cosa per aver preso dei fiori il che appunto è letteratura soprattutto diventa il testo già pronto e perfetto per una canzone una canzone che peraltro lui eseguirà anche nel concerto di san kentin di cui parleremo tra poco e raccontare magari degli ergastolani che tu sei stato arrestato perché hai strappato dei fiori da un giardino alle due di notte è qualcosa che quanto meno li fa sorridere visto che la maggior parte della gente che risiede lì ha probabilmente degli omicidi sulle spalle poi c'è un altro episodio divertente che è quello di carson city carson city lui viene di nuovo arrestato probabilmente per motivi di droga finisce in cella e qui in cella trova un boscaiolo più poco amichevole che non vuole credere al fatto che lui sia johnny cash e siccome anche questo questo compagno di cella non sembra esattamente pacifico johnny capisce che forse è il momento di far capire che è davvero johnny cash e quindi lo convince cantando tutta la notte le sue canzoni e i suoi gospel lui era famoso anche per la musica sacra americana il boscaiolo non si arrende però per fortuna si addormenta e rimane assopito fino a quando johnny cash viene liberato al mattino ecco tutte tutte queste queste come dire queste queste storie di perdizione e tutto a un certo punto trovano sia uno sbocco artistico ma anche un climax personale perché lui decide che ora di finirla anzi decide soprattutto per lui john carter johnny cash era già stato sposato con una fidanzata con la quale ha legato da fin da quando era molto giovane il suo matrimonio non va bene incrinato dai suoi tradimenti ma soprattutto dai suoi eccessi quando il matrimonio sta per finire tutto john carter che è la figlia l'esponente giovane della john carter family scusate della carter family la carter family è la specie di famiglia reale del folk americano sono i depositari della tradizione folk della musica americana rispettati e divinizzati ecco giun è la principessa che dopo i trosie dopo mille richieste da parte di johnny cash che è andato in turco la carter family chiede più di una volta di sposarlo le rifiuta spesso cantano sul palco ed è evidente l'alchimia la tensione quasi erotica che c'è fra i due sul palco alla fine acconsente acconsente e lo salva e sarà proprio anche la famiglia carter che imporrà a johnny cash di ripulirsi di diventare una persona per bene e a quel punto john carter dirà a johnny cash va bene d'ora in poi io sarò con te noi saremo insieme e la tua gente sarà la mia gente e però capiterà che la gente che john carter accetterà di condividere con suo marito saranno niente meno che delinquenti ed ergastolani e succederà nel momento in cui non tanto perché per fortuna johnny cash in realtà in prigioni non ci andrà mai ma ci entrerà come come musicista lui ha sempre come abbiamo detto questa attrazione verso verso i perdenti per chi sta scontando una pena perché li capisce perché sa che non è diverso da loro e si esibisce già appunto alla pensione alla prigione di folson nella folson prison ed è esattamente in quell'occasione che lui esordisce dicendo hello i'm johnny cash con quella meravigliosa voce baritonale al consigliario e bob johnston bob johnston aveva già lavorato con bob dylan e si occupa di curare tutta l'intera serata nella prigione di folson tantiché la casa discografica pensate subito non ne vuol sapere non vuol sapere nulla di questa operazione perché gli sembra pericolosa poi invece funzione e alla fine uscirà il disco del live at folson prison lui si esibirà anche a saint kent in prima dell'esibizione di cui parleremo fra poco ci va una prima volta e fra e dice una emette una dichiarazione che è assolutamente come dire lineare con tutto questo su ciò che lui pensa della prigione johnny cash dice questo non vedo niente di buono uscire dalla prigione tu prendi queste persone le metti dentro come animali e ne strappi a quegli uomini strappi le anime e le budelle e poi gli lasci uscire peggio di come sono entrati ora esattamente non sembra proprio uno spot per le capacità redentive della prigione però quello che pensa e quindi vuole andare lì a suonare la sua musica per quella gente che sta espiando una colpa e allora quando ci va la prima volta per esempio all'idea oltre appunto a gente che ha commesso i peggiori crimini che ci sono sulla terra lì ci sono anche degli orgastolani fra questi c'è anche merl haggard merl haggard è un musicista country che è finito all'interno della prigione di fossum per una per furto con scasso lo vede e fa una dichiarazione una dichiarazione fantastica dice questo dice questo rispetto all'esibizione di fosum dell'esibizione di st kenting scusate non quella di cui parleremo dopo la prima che non viene in realtà registrata né per la televisione né sul disco e di quella prima esibizione in cui merl haggard è seduto tra il pubblico dice questo johnny cash aveva l'atteggiamento giusto masticava chewing gum sembrava arrogante e faceva il dito alle guardie faceva tutto ciò che i prigionieri avrebbero voluto fare johnny cash era una madre cattiva del sud degli stati uniti che era lì perché ci chiamava quando se ne andò tutti in quel posto volevano essere johnny cash e di sicuro diventarono dei fan di johnny cash e attenzione non c'è un'ombra di populismo non c'è assolutamente il desiderio di accattivarsi nulla semplicemente lui vuole stare con quella gente e allora alla fine ci torna a st kenting in questa prigione californiana vicino a san francisco che ha avuto fra i suoi ospiti diciamo così alcuni criminali illustri c'è stato oddio c'è stato quasi in tutte le prigioni americane ma charles manson l'autore dei delitti della originati dalla death valley di sharon tate il massacro forse il criminale il più controverso e più buio della storia degli stati uniti c'è stato lui dentro c'è stato bobby bossoleil che è uno dei suoi dei suoi sicari se cose vogliamo dire c'è stato edward bunker che poi è stato il primo a entrarci lì dentro la sua condanna venne sancita quando aveva 17 anni ed è diventato poi uno scrittore di estremo di estremo valore c'è stato l'assassino c'è stato gli assassin dei kennedy soprattutto c'è stato quello di robert insomma è una prigione dura ammesso che non esistono che esistono prigioni non dure negli stati uniti e allora decide di andarci johnny cash per quella gente e vuole che questo documento sia registrato lui vuole che sia registrato non soltanto come un disco esiste un disco delle sue esibizioni di saint kelly ma consente che venga filmato tutta la serata una serata che viene filmata dalla una televisione britannica la granada television ecco negli sprazi che abbiamo visto di questo documentario che peraltro è disponibile diciamo che la parte che più ti colpisce prima dell'esibizione e di quando johnny cash entra all'interno della prigione lui entra a un impermeabile marrone di quelli un po anni 70 nonostante siamo ancora nel 1969 ma è già anni 70 in l'esibizione viene filmata il 24 febbraio del 1969 è un impermeabile di quelli marroni un po sembra quasi un dirigente della stasi della ddr entra tutto impomatato e ha con sé a john carter sua moglie e quando lo fermano i cancelli di questa prigione spietata gli chiedono lei è solo e lui quasi si mette a ridere perché come dire ma non mi vedi dice no o john qui con me o mia moglie ed entra in questo penitenziario dove come dire di donne non solo di belle donne ma di donne in assoluto non si vedevano da tempo e john carter è una bellissima donna indossa un vestito di sbuffo un vestito molto americano sbuffo bianco e tutte immaginate che cosa significhi per questi prigionieri vedere passare john carter nonostante il rispetto che provano johnny cash qualcuno si abbandona qualche battuta se vogliamo quasi querili considerando chi c'era lì dentro la migliore è qualcuno che dalle sbarre mentre passano dice ehi che cosa johnny che io non ho ecco johnny cash sorride e non risponde e poi va sul palco va sul palco e comincia a cantare comincia a cantare e l'uomo in nero in realtà quella sera non è in nero perché ha un vestito blu blu scuro azzurro con camicia azzurra senza cravatta ma è nero il suo cuore perché trova questa gente sotto di lui e capisce che è la sua gente sono tutti vestiti con la divisa d'arcastolani con questo denim quasi di jeans hanno i capelli impomatati sembrano quasi dei musicisti della sun studios piuttosto che dei terribili delinquenti e sono tutti ordinati in silenzio qualcuno può fumare si poteva formare fumare johnny cash va e canta fa falls on prison e dovete immaginare cosa cosa dirà la gente quando qualcuno dice che ha ucciso un uomo solo per vederlo per vedere l'effetto che fa e soprattutto cantare walk the line che è un altro grande classico che è un'idea perfetta di cosa significhi significhi essere fedeli alla propria donna ma anche camminare ritti mantenere una dignità nella vita non sgarrare ecco queste sono parole che hanno un peso enorme in quell'audience e poi arriva il momento il climax in cui lui sta per cantare una canzone che non ha mai cantato che è la canzone di cui parleremo questa sera che è saint kentine la canzone che parla proprio di quella prigione e sentite cosa dice a proposito di saint kentine lui guarda la folla e dice stavo pensando a voi ragazzi ieri sono stato qui tre volte prima e penso di capire come vi sentiate riguardo ad alcune cose ora non sono affari miei come vi sentiate per quel che avete fatto e non lo faccio non me ne frega niente di come vi sentiate su alcune cose ma comunque ho cercato di mettermi al vostro posto e credo che questo sia come mi sentirei se fossi qui a saint kentine e cominci a esserci un certo brusio la canzone che johnny cash appunto a saint kentine sta per eseguire è un inedito assoluto ed è per punto saint kentine parte e c'è silenzio e lui dice saint kentine sei stato per me un inferno in terra e già il pubblico non può credere che stia succedendo esattamente lì l'america è un posto strano non ti fanno fare le cose poi ti lasciano dire le cose del genere ma succede e lui continua mi hai ospitato dal 1963 li ho visti andare venire e li ho visti venire e li ho visti morire e già da tempo ho smesso di domandare perché pausa saint kentine odio di te ogni centimetro e allora la folla comincia a fare un brusio ma davvero johnny sta cantando questo per noi e lui dice saint kentine mi hai ferito e sfregiato nel profondo ora pensate una ferita del genere ci sono le guardie che non ci possono credere lui continua con questa base blues scarna con i suoi tennessee freak che suonano in maniera impeccabile precisa e spesso sempre uguale e poi si domanda e uscirò più saggio e più fragile signor deputato perché non capisci e questo è fondamentale lui sta parlando ai politici sta dicendo io parlo ai politici per voi che non potete farlo san kentine che bene pensi di fare pensi che sarò diverso quando avrò finito con te mi hai piegato il cuore e la mente e forse anche l'anima e i tuoi muri di pietra mi fanno un po' gelare il sangue dopo ogni frase il pubblico esulta ed è fermo e non esagera non soltanto perché ha paura dei secondini che sono presenti ma per rispetto johnny cash e alla fine lui dice san kentine che tu possa marcire a bruciare all'inferno e lì tutto esplode che le tue mura possano crollare e possa io sopravvivere per raccontarlo possa il mondo intero dimenticare che tu sia mai esistito e possa il mondo intero rimpiangere che non sei servito a niente e poi dice san kentine sei stato per me un inferno in terra e questo è clamoroso ora qui nessuno fa l'apologia di chi ha commesso dei reati assolutamente però bisogna capire la cornice di un uomo che ha peccato che è risorto e che capisce che lì dentro c'è gente nella sua stessa condizione e lui auspica che venga fuori ma lui è da quella parte da quei perdenti da chi ha sofferto e sta cercando di venirne fuori e questa canzone è scritta sulla loro pelle e tutti impazziscono e succede una cosa che nella storia della musica non era mai successa johnny cash è costretto a risuonarla subito immediatamente in genere in qualsiasi tipo di concerto finisce e ci sono i bis qui non accade lui è costretto a suonarla subito ed è pazzesco perché lui dice ok la facciamo subito però a un certo punto dice can i have a glass of water vuole soltanto dell'acqua e loro un secondino perché anche loro sanno fare bene il loro mestiere perché in america tutti sanno quello che possono fare entra e gli porta dell'acqua ma quell'acqua non è in un bicchiere in una gavetta quella di di ferro quelle che usano anche i carcerati e lui sorride da un certo punto di vista e dice ok io sono come loro ed è giusto che lo abbia però poi gli sembra anche una mancanza di rispetto quindi sorride quasi dire non ce la potete proprio fare a dimostrare un po di rispetto per noi la beve poi la butta e ricomincia mastica il chewing gum a questo atteggiamento sfrontato i capelli impomatati e la rifà da capo e ogni strofa che loro hanno imparato a conoscere esultano e questo ripeto è un momento clamoroso per la storia della musica per la storia di un essere umano che in pubblico esorcizza i suoi dark places quelli che davvero l'hanno accompagnato tutta la vita una vita che avrà poi alti e bassi negli anni 80 lui verrà quasi dimenticato e negli anni 90 risorgerà anche artisticamente grazie a rick rubin il produttore che riprenderà la sua voce la sua voce baritonale inimitabile e la adagerà su canzoni che vi verranno offerte quasi come come appunto a un dio tutti li riportano gli u2 i nine inch nes bonnie prince billy de pesch mode chiunque i pesch mode riportano personal jesus lui canta personal jesus come davvero forse il dio personale di moltissimi sui ascoltatori e questo va avanti poi alla fine nel nel 2003 muore i giorni e muore giun prima di lui lui si sente perso su angelo che le va salvato e poco dopo morirà anche lui e tutto questo ha un finale biblico perché lui nella sua casa dove ha passato gli ultimi giorni viene omaggiato proprio da tutti questi musicisti c'è qualcosa quasi da dare magi tutti vengono e gli offrono le loro canzoni migliori solo chiedendo che canzoni come one o heart o appunto personal jesus o i see a darkness tutti i testi che sembrano fatti apposta per lui possono essere nobilitati dalla sua voce la voce di qualcuno che ripetiamo una volta di più sa che cosa significhi soffrire cosa significhi risorgere e sa che cosa significhi essere un perdente quindi ascoltate questo live guardatevi l'immagine soprattutto calatevi nella storia di johnny cash e soprattutto se siete in difficoltà in questi momenti che non sono semplici per nessuno entrate in una stanza qualsiasi anche se non avete una camicia come questa guardate i presenti guardate anche il vuoto entrate pensateci un attimo e dite hello i'm johnny cash e fidatevi tutto funzionerà meglio ciao ciao ciao